Musica Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Call of Duty Modern Warfare 3 e quest'oggi sono in live su Infetto una modalità che non avete forse mai visto nel mio canale se non l'ho accennata per chi non la conoscesse Infetto è praticamente una modalità composta da due squadre di cui una squadra è appunto gli infetti e una squadra sono appunto i survival o diciamo in italiano i sopravvissuti gli infetti praticamente viene generato appunto un infetto in modo casuale all'inizio della partita per questo infetto deve andare a uccidere col suo coltellino altri survival in modo da incrementare la crescita diciamo dei survival degli infetti scusate i sogni di infetti hanno solo un coltello se non sbaglio un coltello da lancio oppure un equipaggiamento che poi varia a seconda del server mentre noi survival o sopravvissuti abbiamo delle armi appunto generate in modo casuale in questo caso io ho il Dragon of con i caricatori aumentati perfetto in questo server che sto giocando c'è anche il Pro Mod Plugin ed è davvero una goduria giocare con questo Pro Mod Plugin è davvero divertente ci gioco molto spesso con questo server che nemmeno so come si chiama ma l'ho messo nei preferiti adesso il mio compito è girare andando a cercare gli infetti bastardi e tentare di non farmi infettare ecco ecco ok io sono Jumpy Tech e sono è uccito gli infetti sono forte perfetto allora vediamo Dino guarda lì c'era un infetto adesso mi armo di secondaria e vediamo che cazzo posso fare dove cazzo è andato? mi hanno sicuramente ucciso ok una cosa oddio oddio l'avevo dietro una cosa che io odio di questa modalità oh cazzo è lì godo una cosa che io odio di questa modalità praticamente è che quando si è infetti si è sopravvissuti diciamo molta gente se la campera in un angolo alto in modo che gli infetti non possono raggiungerli e ciò mi fa davvero incazzare parecchio perché è davvero noioso giocare in questo modo cioè è noioso e non è a mio parere oh cazzo mi hanno accoltellato merda gaffanculo stavo facendo una buona partita vabbè adesso come vedete sono infetto prima ero sopravvissuto e adesso un infetto mi ha accoltellato e sono diventato anch'io infetto quindi adesso il mio compito è totalmente cambiato e devo andare ad uccidere i sopravvissuti quindi tentiamo di andare in giro io come vedete adesso ho una claymore che metto qui che non si è dita un cazzo perfetto magari questo fumo smette di darmi fastidio allora oddio oddio che cazzo siamo 12 contro 5 una bella partita perché è molto molto azione flash come vedete lì ci sono dei nemici perfetto adesso io devo andare devo tentare di aggirarli in qualche modo come vedete si sono messi su quella jeep che è un punto abbastanza alto hanno una visibilità diciamo ottima e in questo modo noi stupidi infetti non possiamo prenderli deve avere una cosa molto triste perché è difficile giocare in questo in questa maniera con questi stronzi camperati lì forse li hanno uccisi e si e io ci godo come un cane sono rimasti due è rimasto lo stronzo l'hanno accoltellato e ne rimane uno mi sa che finisce la partita perché a volte non c'è bisogno di uccidere proprio l'ultimo sta a trovare quest'ultimo stronzo dove cazzo si è messo dove sei brutto bastardo dove sei dove sei oddio lo stanno rinseguendo lo stanno rinseguendo asde l'hanno ucciso comunque ragazzi questa era la modalità infetto spero che questo video possa esservi piaciuto e se vi piace appunto il video vi invito a lasciare un bel mi piace e da Giampitech tutto ciao 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 ciao